Ho scelto il corso di laurea magistrale in traduzione specialistica, nel curriculum appunto di traduzione, perché credo che lavorare con dei professori che sono inseriti attivamente nel mondo del lavoro traduttivo sia fondamentale per avere un insight perfetto nella traduzione, nella professione che poi si andrà a svolgere in futuro. Grazie a Yulma ho avuto la possibilità di fare diverse esperienze lavorative, lavorare per l'Irish Film Festival che si tiene a Roma, ho avuto delle opportunità appunto di lavorare come interprete in diversi eventi, ho potuto provare diverse tecniche e diversi ambiti nel mondo della traduzione. Questo corso di laurea sicuramente mi ha dato le tecniche, ma mi ha dato anche la possibilità di creare il mio lavoro come lo svolgerò io, perché appunto la traduzione non è una scienza perfetta, ma ogni persona andrà a creare il suo metodo di lavoro e credo che questo corso di laurea mi abbia dato la possibilità di creare le mie basi su cui poi andrò a lavorare in futuro.